Benvenuti di nuovo a un'altra piccola lezione sullo sculpting con Blender 290 L'altra volta abbiamo visto come usare all'interno dello sculpting l'opzione di ricava nuova mesh Ci sono in realtà altri due sistemi che si possono usare Uno è la topologia dinamica che è molto interessante ma a volte difficile da gestire E ce n'è un altro che è un modificatore apposta per lo sculpting che si chiama il multi-risoluzione Allora, cominciamo con la topologia dinamica ma in realtà io preferisco poi dopo Vi farò vedere un esempio concreto con la multi-risoluzione La topologia dinamica è un mestiere che permette di Abbiamo visto prima che lo sculpting funziona quando abbiamo abbastanza vertici Abbiamo visto che se guardiamo i vertici del nostro oggetto, che ne ho otto Non si può scolpire Mettiamo adesso questo in modalità E io preferisco questa in cui si vedono tutti i pennelli a colpo d'occhio Ok, allora Quando sono in modalità di topologia dinamica Anche se mancano i vertici, lui è in grado di produrli Ma li produce sulla base di un po' di cose Intanto dobbiamo dirgli qual è la dimensione di dettaglio E poi dobbiamo dirgli se vogliamo la ombreggiatura levigata o meno Vedete che l'ombreggiatura levigata quando ci sono pochissimi vertici scolpiti così Non va bene perché altera molto la struttura Ma quando ci sono un po' più di vertici serve per rendere le cose dolci Quindi belle curve Quindi topologia dinamica per il momento Lasciamo l'ombreggiatura normale E lasciamo per il momento il default Vediamo che in realtà alcune di queste cose io le cambierò Ma prima voglio vedere un po' come funziona Allora abbiamo il nostro pennello disegna Che è quello di partenza E vedete che abbiamo il pennello grosso abbastanza Grosso quanto? Se lo dice qua Quindi raggio 50 Facciamo F e lo riduciamo a 5 ad esempio E poi proviamo a scolpire Come vedete la scultura in questo momento non è un granché Perché non ci permette di scolpire Però vedete che in realtà lui sta aggiungendo vertici Perché questo è l'effetto della topologia dinamica Solo che non li vediamo questi vertici Quindi purtroppo non è la cosa ideale Quindi per vederli un po' Io suggerisco questo Quindi facciamo CTRL Z Torniamo alla versione originale di 8 vertici Topologia dinamica sì Ma gli mettiamo qui una dimensione di dettaglio Questa è quella dimensione con cui lui genera praticamente le nostre Ecco, proviamo con una versione alta E poi usiamo un dettaglio che non è relativo Ma è costante Anzi, mettiamo costante E qui mettiamo un valore di risoluzione un pochino alta Perché il default 3 ho visto che è molto brutto Quindi, usando la topologia dinamica Dobbiamo ricordarci di mettere il dettaglio costante E la risoluzione aumentarla un po' A questo punto, avendo messo la risoluzione a 30 Se noi la mettiamo a 20 Ok Lasciamo un attimo a 30 Ok E poi possiamo provare a scolpire Vedete che ci scolpisce Quindi abbiamo capito Che per scolpire un oggetto Occorre settare queste modalità in topologia dinamica E vedete che man mano che io dipingo Lui aggiunge e soltanto quando io dipingo Mi aggiunge vertici Quindi non c'è bisogno di Non c'è bisogno di Aggiungere i vertici come Nell'altra situazione Ok Quindi Li aggiunge lui man mano Altre cose su cui fare attenzione Ecco, quello che volevo dire Non lasciate il dettaglio di default Che è relativo Perché è bruttissimo Perché vuol dire che Lui Vedete che vi fa un dettaglio stupido E invece Noi mettiamo un dettaglio 30 30 vuol dire che Genera parecchi vertici Ma se noi Torniamo all'inizio Quindi torniamo quando avevamo 8 vertici Qui al posto di dettaglio costante E di risoluzione Nel posto di 30 Nel posto di 30 gli mettiamo 10 Cioè vogliamo un dettaglio Un pochino meno esoso In termini di vertici Quando andiamo a scolpire Vedete che ci scolpisce lo stesso Ma aggiunge Un pochino meno vertici Per volta Quindi scolpisce In maniera un pochino più tranquilla Per vedere meglio in realtà Mettete l'ombreggiatura levigata Solo che avete l'ombreggiatura levigata Va bene Tranne che sugli spigoli vivi E lì non è Un gran che bello O se no Possiamo aggiungere Control 2 Ah In Dintop non ce l'ho Niente Quindi Lasciamo perdere Quindi Possiamo partire da una sfera Eventualmente Quindi rifacciamo La Dintop Con un Anziché con Il cubo Che come abbiamo visto Ha qualche Trappola Anziché il cubo Facciamo Control 2 O control 3 Per averlo Un pochino più sferico Ci avviciniamo Andiamo Nella nostra Novità Scolting Ok E poi qui Aggiungiamo La topologia dinamica Abbiamo visto Ci dà un warning Che per il momento Ignoriamo Gli mettiamo Il dettaglio Costante Importantissimo Gli mettiamo L'ombreggiatura Levigata Allora Aspetta Questo lo fa Perché Avendo fatto Control 3 Avevamo aggiunto Una subdivision Questa Che ci conviene In realtà Torniamo in modalità Oggetto Ok Aveva Subdiviso Ma ci conveniva Applicarla subito Non l'abbiamo fatto E' venuto un po' Strambo Quindi suggerisco Di ripeterlo Ripetiamo Questa operazione Cina Control 3 Abbiamo questa Andiamo qui Il modificatore Lo applichiamo E quindi a questo punto Conviene Quando si scolpisce A partire da una situazione Con meno modificatori Possibile Torniamo quindi Dove volevamo essere Quindi andiamo in modalità scultura Quindi sculpting Modalità scultura Che ci siamo E poi Ce lo mettiamo così Quindi Topologia dinamica E poi Dettaglio costante E qui ci mettiamo Abbiamo detto Non mi ricordo se con 10 Andava bene Obreggiatura Levigata E vedete che a questo punto Io posso scolpire Qui abbiamo Il dettaglio sulla X Vedete che Scolpire con Con questo dettaglio Ok Si lavora Cioè non si Non si vede Benissimo Però può essere già Un punto di partenza No? Nel senso che Andiamo un po' Questo qui Facciamo F La riduciamo Vedete che Secondo me È il 10 Mettiamo Il nostro 30 Che so che Fa un dettaglio Un pochino Più significativo Ok? Quindi vedete che Possiamo dipingere E fare tutti I nostri mestieri Attorno Quindi a questa cosa Eventualmente possiamo Come abbiamo visto L'altra volta Aumentare la forza E possiamo dipingere E usare Tutte le nostre strutture Quindi anche Cambiare La La forma Vedete che Questo praticamente Ci cambia la forma Possiamo quindi Costruire Il nostro Il nostro Le modifiche Che vogliamo fare Al nostro Alla nostra sfera Con i pennelli Che abbiamo più o meno Visto la volta scorsa Ora io direi che Per la topologia dinamica È Quasi più o meno Tutto L'unica cosa Quando avete fatto La topologia dinamica In realtà Ok Non aggiunge modificatori Ma se volete Quindi Poi applicare Altri strumenti Potete togliere La topologia dinamica E quindi ripartire E aggiungere Altri sistemi Per esempio Quello che vi farò vedere Fra poco Con la La risoluzione multipla Quindi con quella Multi risoluzione È tutto Per questo Secondo Secondo Video A più tardi Per il termine